Sto registrando con Fraps Cosa? Sto registrando con Fraps Cosa hai? Ciao No, sto registrando con Fraps No, no, che cosa vuoi tu? Sto parlando di Deadpool Oh cazzo, che figata Le motoseglie che scaricano Che carine Le voglio modificate però Le motoseglie modificate Allora Arriva il Leatherface Cosa ne pensi dello Scar Eh, che giuso Bastardi però Adesso che mi ho votato su tutti i fronti Adesso cazzo dovete correre avanti Mi ha fatto termina Io aspetto l'ora che arriva da dietro L'unico problema è che c'è tutto un bordello Con le motoseglie accese Sì Però c'è la mod Motoseglie silenziosa Però non c'è gusto Mi ha fatto un lega Sì Ho trovato l'adrenalina Chi ne ha più bisogno Beh, per adesso la tengo io Poi vediamo Dopo metto il video su Youtube, sai? Per cosa? Vai Witch Ha 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 Non è lì c'è le sue cose Ha ha Cazzo Faccio Però ho anche io Un video che faccio Sì lo sto registrando Vediamo Vi faccio vedere tutte le mie mod Ha ha strand Ora io questo lo sto registrando adesso Ok In teoria ho anche il microfono attivo Quindi mi si sente Che sporato Ese Cosa? Con Kaps Fraps Mia morosa Mia morosa Mia morosa E quindi quando c'è un Kaps di Fraps Senti tutte le frappe che saltano Ma che cazzo Ma Fraps non è quello che fa video recensioni Svvd Oddio Semmai è Franz Farenz No Capita Fraus con la W No no Te lo scrivo qua aspetta Così Esatto Aspettato fare un'esecuzione su uno zombie Cadi per terra Cadi per terra Ancuro Ciao amorosa Un po' grazie Quindi quando c'è un incentito C'è un tank merda occhio Mercoledì mattina Resistirei un merda ciao Amore C'è un tank merda occhio Mercoledì mattina Resistirei un merda ciao Amore Amore Simone ai medici Ah buon c'è la ai medici Allora Venite Piccoli bambini Dove siete Eccoli Eccoli Ogni E' tutto prima che che dico Chissà Il mio amico imbazzisce adesso N Summer Questa estate chissà forse vado a lavorare anche al macello Chissà può essere Escortarmo anche Hunter ciao Mi prendo io il boomer così mi vengono addosso gli zombie Oh no Oh chi orda orda Morite Morite Ehm Perché non muoiono Guarda Ah Faccio un ambo Per far la campagna con lui E' l'ultima missione prima di arrivare possiamo ammazzarlo E' l'unire senza migliori E' l'unire senza migliori No No arrivo Arrivo Che Ah Simone sei da sopra aspetta Sì anch'io c'è un kit medico Come hai fatto a salire lì? Come cazzo si fa? Sì ma mi ricordo che mi faccio salire Che segno Una simietta che mi stanno Ah capito ho capito Arrivo 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 Secondo Ma come hai fatto? Io non ho fatto niente io solo C'è un aspetta che gira proprio per te Sì io ho l'ospital modificato quello tipo fluorescente Io ce l'ho tipo col capellino con un coso Oddio E' tipo un mostro non lo so è sembra un personaggio del millogiorno Ah ok Già ok Sì Pillole No Deadpool è quello che hai Ah ah Sì Sì Adrenalina Eh Passo Passo Dura la vita Ok Oh guarda come lì di danni non lo posso Sì Ciao Cadi per terra Mi piace quando cadono per terra Li fai l'esecuzione Ah bello Eh Deadpool Ops Che è sto stronzo? Ma gli ho dato la finestra non so Cos'è? Cazzo bene Devemmo essere Aspetta aspetta Ti copro No ce l'ho Sì ma mi dovevi coprire dal Deadpool Dal Deadpool Dal Deadpool Ah 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 E' un zombie Ah 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 E' un po' E' un po' E' un po' Io Ti mangio il cane E non sono cinese Beh vuoi scherzate ma i cinese che ci sono qua a foto E' andato a mangiare la nipote no la terriba e amico Eh E' andata la sera all'ospedale che era malistomaco Malistomaco Sai cosa ti ho trovato? Mmm Cinque di cane Oddio Dove? A Porto? Sì Possibile Dopo anni che è aperto Eh? Dopo anni che è aperto No E' il cinese quelli Così Quelli della carta Così che ho trovato sicuramente Ah quelli la Ok penso volerlo stucceria io Che la prendo sempre la cosa da mangiare No Ah bom Il cibo del cane Quello che hai prendo il cane Bom Ma dai Ma che era una coincidenza che ne so Eh no se avevamo di stomaco dopo che mangiavo lì Ah in effetti Che stronzo Aspetta 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 Fermi tutti Dovrebbe arrivare un'orda adesso Cos'hai combinato? No dica se aspettiamo un po' arriva un'orda Sì ti tagli i capelli col motosega Io sempre No basta aspettarli qua dalla porta Dovrebbe arrivare un'orda ogni tot tempo qua Ma No Sai come Per godere un po' Ho sentito Dio porco Occhio invece Spitta Ma se che non moriamo No non c'è un cazzo costo Dovrebbe arrivare tra poco però Bum Normalmente Oh Hunter occhio Oh arrivo 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 Gisù porco dentro la base Cosa è? Eh Renato lì ci vede Fra l'altro Arrivano? Non c'è nessun Puffa A me arrivavano ogni tipo 40-50 secondi Bom bom Casomai chiudiamo sì C'è la moda delle super orde Uh Uh No però non chiudete No Eh va bene Stava arrivando un charger Oh Non chiudete quella porta Ah Ah Uh Ho ben fatto male No ma scusa No ma scusa Cazzo il mio pc è così caldo che siccome devo usare la mano sinistra per muovermi nel gioco La mano sinistra è bollente e la mano destra gelida sul mouse Oh Uh questa missione qua Ah Beh Faccio Se ne ho riuscito e faccio la pioggia penso Non aprite Ha fatto Oh Oh Dolore Eh Allora c'è la cosa C'è la adrenalina Questo sarà stra divertente Sì Sì Farà male C'è della adrenalina dentro Ci sono anche dei medici Ah ok Siete già tutti tutti ok Eh Ci sono dei medici Per la faccia divertente Io ce l'ho Allora io mi curo E poi mi foto il coso Stendiamo sulla destra e sulla sinistra Uh come disse Mozart Hai un piano? No no Tutti sulla sinistra ok Ma come senza lasciare il tasto W Con il tasto W No no Senza lasciare il click del mouse Ah no aspetta il tasto W Se io schiaccio Y Non lo faccio così Via E' così che non devo lasciare il tasto W Ma dai Ah beh Che ne so io Io copro dietro Io copro dietro Baccite voi dietro Occhio ai charger E ai giochi No Sappiamo tutti che non si può correre con la motosega accesa vero? Si è pericoloso Qualcuno potrebbe farsi male Aaaaaah Cazzo Cazzo Sono ultimo Prossimo intanto Cazzo Saliamo qua Ah ho fatto una cagata io Boh vabbè Mi raggiungo Eh dai Mi fa sapere che Tu ci faccia Decidica se hai i problemi di gestione Ma no No E che cazzo Uh con l'adrenalina Ti dà ancora più emozione Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Si decisamente C'è un hunter che sta saltellando qua e la non lo fa più tranquillo ma scusa quello è un busto c'è una tank via, prima gli do fuoco e adesso che brucia ragazzi aiuto addio io sono andato ho provato a uccidere comunque il tank dovrebbe essere morto come volare fuori dal ponte in una maniera spaventosa eh perché il tank mi ha dato vuoi che lascio lascio la registrazione vediamo se riusci a farsela no ma non serve cosa? ma che no se tu fai la registrazione così lunga amore mio no poi lo converto e non te la carica su youtube? no guarda che youtube mette fino a 10 gigabyte e video di due ore no adesso no fino a 10 gigabyte? sì però con una durata minima due ore no sì sì è troppo lungo tranquillo ti dico io porco 2 sto per cadere poi qua siamo sui 10 minuti eh ma al massimo lo divido in party è sto un attimo no 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 adesso ah bombo andate andate sta bombo a finire il livello mi è saldato l'ossomante ce la potete fare ma ha fatto bene che sfiga addio voglio lascio lascio riproviamo dai come diceva nek conoscete la canzone di nek no? andiamo in fila indiana ognuno a 5 metri da qui dall'avanti e seguiamo il cularo e cende e dobbiamo salire salite vi aspetto quindi lo scar è buono? sì sì no mi sembrava più buono eh ti do la mia mola da 100 siccome ero un po' carente ma ma se che che sia in jaul però che ho visto che sono un piccoglione no no ma eh dovrebbe far siccome sia l'SP90 e fa così con l'SP90 dovrebbe stare dentro l'SP90 non è blu eh? no non è blu l'SP90 non è blu non è blu no ma comunque in teoria siccome era carente faceva 30 metri scarsi eh con la m100 ti aumento un po' l'agitata dovrebbe stare sempre dentro la jaul così com'è facciamo tutto da frate casomai no bene dai tanto così loro si mettono a piangere no ma mi ci mettono un po' ok pensavo avesse meno buono siccome meno? supriamoli polvere ah boh inculiamoli a sabbia a sabbia io vi capro le spalle ma che vado a muoio liberate che ce la facciate voi vai 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 ti capro io le spalle occhio 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 dietro di te dietro di te dietro di te c'è un jockey arriva un secondo c'è un jockey aspetta aspetta che dai che dai che dai ok dite aspettavo davanti le nostri che arrivano subito qua per la fine teniamo l'adrenalina pronto ecco vado a salvarlo io se no mi trovo un cia porco del mo eh si pure ecco ovviamente eh boh adesso arrivo a salvarti mori slender mori hai un medikit si boh al posto no 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 si ok si sono scaricate le cuffie no eh no posso usarle mi incarico ah allora ti sento poco perché dovrei passare un po' il rumore di gioco mi copri mi copri mentre mi cura non gli fa bene al daily ti va a essere utilizzato per me questo micro eh non molto ma che ce l'ho a te ma che ce l'ho a te però boh d'altronde se non hai scelta la fin fine ne avete tantissimo ok a posto in teoria arriva arriva un coso un tank però non so sicuro boh ma tanto io la molotov vi tiriamo quella ce la diamo a gambe occhio spitter che dai che dai giochi giochi tank eh ma sempre con me c'è l'altro sto occhio ditemi che ha preso fuoco bene allora è morto arrivo un secondo ok è morto no resisti ok arrivo un secondo che c'è un giochi qua ci sono due sacchette di pillole c'è due pillole ah ma ho la cosa no no ho l'adrenalina che è meglio dai che siamo tutti e tre con buona con buona vita dobbiamo farci questo giro se no quante cazzo di volte devo ripetere oh merda no che cado anche io un po' lagavo prima poi anche colpa di fraps oh adesso ho una bella orda arriva non è un problema no per niente il salvataggio è arrivato adrenalina e via a manetta evitiamo il tank vai 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 a manetta tank oh cazzo cicato vai vai ce la fate raga ok andate 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 rimango io rimango io andate 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 vai 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 Lasciate stare Lasciatemi stare Oddio Fatevate andare Speriamo di morire in fretta Eh tanto sono morto Ok ce l'abbiamo fatta l'importante è quella Ok Io chiudo anche qua il video dai a me ce l'abbiamo fatta Guarda sangue sull'elicottero Oppure sulle pale madonna